Ciao ragazzi, eccomi ci sono con un altro bel video, con tecniche da mental training per gestire e affrontare le nostre gare con una marcia in piuma. In questo video andiamo a parlare di una tecnica semplicissima. Abbiamo a parlare della fisiologia e la correlazione con il nostro umore. Sì, la nostra posizione del corpo è la correlazione con il nostro stato d'animo. A volte capita che quando siamo depressi, demotivati, demoralizzati, abbiamo un umore sotto i piedi, in quel caso molto probabilmente avremo anche una postura che va con la testa bassa, spalle piegate in avanti, busto piegato in avanti, occhi spenti, labbra in giù. Questa è la classica postura di una persona che ha l'umore sotto i piedi, un po' demoralizzato, un po' demotivato. Noi possiamo cambiare questo stato d'animo, possiamo cambiare questo umore semplicemente cambiando la nostra postura. Praticamente portiamo sul busto, spalle dritte, testa alta, respirazione diaframmatica e vediamo che piano piano il nostro stato d'animo, il nostro umore, piano piano va a cambiare, va a migliorare. Saremo più fieri di noi stessi, avremo più stima in noi stessi, più fiducia in noi stessi. Semplicemente cambiando questa postura, giù, assù, perfetto, aprendoci di questo modo, affrontando tutto con determinazione. Questa tecnica può essere unita a un'altra tecnica molto importante che è il dialogo interiore che spiegherò nel prossimo video, per cui vi aspetto nel prossimo video con la tecnica del dialogo interiore. Ciao, alla prossima. Pacioni. Grazie. Grazie.